L'unità operativa di gastroenterologia e endoscopia digestiva è composta da 5 medici specialisti in gastroenterologia e endoscopia digestiva e ci siamo anche coadjuvati da un pool di infermieri ed altro personale paramedico. Ci occupiamo quindi di tutti gli aspetti inerenti la gastroenterologia e endoscopia digestiva sia per quanto riguarda la parte diagnostica delle malattie digestive che per la parte operativa. Il nostro ambito principale edizione è molto vasto e va comunque dal trattamento della gastrite, ernia tale, ulcere duodenali, diverticoli, amoragie, emoroidi, siano la diagnosi e cura delle malattie infiammatorie croniche intestinali e celiachia, passando poi per il trattamento dell'obesità e delle patologie delle vie biliari e pancreatiche dove effettuiamo procedure diagnostiche e terapeutiche complesse come per esempio l'ecoendoscopia ed RCP. Effettuiamo inoltre lo screening e la prevenzione del tumore del coloretto e del tumore dello stomaco. Tutta la nostra attività comunque viene sviluppata in collaborazione anche con il Policlinico Gemelli e con i maggiori centri mondiali di eccellenza per il trattamento delle patologie digestive. Per me l'incarico al Materolbia rappresenta innanzitutto una stimolante sfida professionale per sviluppare tutto l'ambito della patologia digestiva in un ambiente innovativo internazionale. Sentendo poi le difficoltà che spesso le persone in questo territorio incontrano per eseguire procedure complesse in ambito medico dovendosi spesso spostare per eseguire interventi per me anche piuttosto rutinari, sono ancora più motivato a poter fornire tutte le mie competenze al servizio della popolazione locale. Da ultimo mi trovo molto bene qui con la gente del posto e con le meravigliose bellezze naturali, tanto più che ho deciso di venire qui con mia moglie e con i miei tre figli.